Lien, salve signora Turner. Credo sia il caso di parlarne. Abbiamo perso Jericho quando aveva 13 settimane. Dorothy l'ha presa male. E questa è l'unica cosa che l'ha aiutata. Hai domande? No, signor Turner. Di chi è quel bambino? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Lei sa chi è che ha accolto il bambino in casa sua. Perché non le hai detto cosa ha fatto? Dobbiamo proteggerci. Tu devi capire che per Jericho non c'è nulla che non farei proprio nulla. Sirebbe meglio se riuscissi a trovare un modo per far pace con lei. Perché avete così paura di lei? Non so perché continuo a fare così cattiva. Sento crescere questa cosa oscura che ho dentro. So che verranno cercarmi. Sarò pronta. È l'oscurità ad alimentarla. La casa è infestata di parassiti. Non senti la puzza di putrefazione? Adesso cosa cavolo succederà? La fine. Ma riesci a sentirlo, vero? È il suo potere. C'è una guerra in corso. E nessuno di voi può fare nulla per fermarmi. C'è una guerra in corso. C'è una guerra in corso. È il suo potere. C'è una guerra in corso. Grazie a tutti.